Tu sei il ragazzo che aspettavo. Quante volte incontri l'uomo dei tuoi sogni? Una? Ti sei innamorato? Mamma! Ciao, principetti! Hai intenzione di rovinare un matrimonio? Ho provato a scappare da lei già una volta. Sta' attento, non possiamo seguire il flusso. Che cosa? Ti stai vendicando? Ho motivo di farlo? Dormi con me stanotte. Cosa devo fare, mamma? Vorrei restare qui per tutta la vita.